Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti a questa seconda parte del mio intervento sul Digital Storytelling in cui cercherò di affrontare il discorso su quello che è il meccanismo narrativo, il dispositivo narrativo e il suo utilizzo nella didattica anche perché storytelling è ormai quello che molti chiamano con espressione inglese una buzzword, cioè una parola di moda con cui si etichetta di tutto anche ciò che non è propriamente narrativo, privo di valenza narrativa, ormai essendo un termine di moda viene applicato ogni cosa qual è lo specifico invece della narrazione? Ci occuperemo proprio di questo Cominciamo a inquadrare in un ambito pedagogico, sempre in termini generali, il problema della narrazione Bene, secondo Shank, Roger Shank, che si è occupato di intelligenza artificiale, che è uno psicologo cognitivo raccontare rappresenta addirittura il cuore dell'intelligenza, l'intelligenza sarebbe proprio geneticamente scaturita dal racconto Umberto Eco, che tutti conosciamo, si esprimeva a proposito della narrazione come di un meccanismo capace di mettere ordine nel caos del mondo Jerome Brunner faceva dalla narrazione un fondamentale meccanismo, è conoscitivo e interpretativo perché grazie alla narrazione non solo una cultura mantiene il suo equilibrio e lo trasmette nel tempo ma anche tramite la narrazione si spiegano i meccanismi di innovazione della cultura attraverso ciò che la narrazione le rende possibile, per esempio l'esplorazione di nuove possibilità e inoltre Brunner si sofferma su quella che chiama la creazione narrativa del sé infatti la nostra identità, così come il nostro rapporto con l'altro e quindi il costituirsi del noi e il nostro rapporto col mondo, si costruiscono anche, soprattutto, tramite meccanismi narrativi e quindi interpretazione e comprensione degli eventi ma anche del proprio sé questi aspetti, chi fosse interessato, può approfondirli in questi due articoli di Angela La Greca, la narrazione come processo di facilitazione dell'apprendimento che si occupa proprio di sviluppare le suggestioni e suggerimenti di Brunner e invece Battini, in questo articolo sulla valenza educativa dell'educazione parla proprio del pensiero biografico e della costruzione biografica del proprio sé in ambito, appunto, educativo La narrazione, quindi, è uno strumento fondamentale, abbiamo visto ma è anche uno strumento interessante per tutto ciò che concede il discorso sulle competenze in questo senso, senza approfondire questo concetto così problematico assumiamolo, appunto, come conoscenza in azione, diciamo così perché? Bene, perché nel raccontare noi abbiamo degli stereotipi narrativi che sono delle vere e proprie sceneggiature, cioè che illustrano delle azioni dei modelli di comportamento prendiamo, sempre per risalire alle origini, Omero ecco, in Omero non abbiamo una spiegazione razionale o una lezione frontale su che cos'è, che su il coraggio la virtù del coraggio ma ci vengono mostrate azioni coraggiose i valori e le conoscenze identitarie di quella cultura aristocratica guerriera non vengono spiegate vengono narrate, cioè viene mostrato in azione che cos'è un guerriero coraggioso e questo chiaramente consente alla narrazione di mostrare direttamente degli schemi di comportamento che sono facilmente assumibili come modelli per orientare il proprio agire e quindi spiegano anche il potere l'impatto così mediato che ha la narrazione rispetto ad altre forme di comunicazione naturalmente questi schemi, stereotipi, queste sceneggiature vere e proprie sono funzionali a determinati valori, a determinati criteri o conoscenze ma pensiamo anche qui, ho parlato di Pinocchio, di Cuoro, di Gian Burrasca il progetto di Cuore con tutta la sua retorica il progetto di costruzione della nazione intorno a certi valori identitari di un'Italia che era ancora frammentata in realtà differenti che non esisteva propriamente l'Italia è fatta, bisogna fare gli italiani ecco, risponde a questa strategia e lo fa in modo molto efficace mostrando situazioni tra il patetico il tragico che hanno un impatto enorme che commuovono, che coinvolgono con cui ci si medesima ecco qui spiegato quindi in che senso la narrazione supporta se non vogliamo proprio parlare di competenze però supporta l'azione più in concreto competenze e didattica digitale che rapporto esiste? bene, sappiamo che oggi sono importanti le competenze digitali ma naturalmente l'ottica qual è? non è quella certo di piegare la didattica il percorso formativo alle tecnologie che sarebbe veramente un errore marchiano mentre semmai deve avvenire proprio il contrario per così dire sono le tecnologie anche digitali e non solo digitali che devono essere al servizio dell'insegnamento e dell'apprendimento non certo il contrario bene, ma in che modo quindi può avvenire lo sviluppo delle competenze per la comunicazione digitale? beh, prima di tutto pensiamo a come l'utilizzo del digitale per costruire per esempio narrazioni richieda la ricerca di informazioni vogliamo costruire una storia e allora dovremo cercare informazioni dovremo aggregare elementi che possono essere immagini che possono essere testi che possono essere video che possono essere audio musica eccetera dovremo poi curarli cioè dovremo rielaborarli poi dovremo condividerli e potremo fare tutte queste operazioni anche collaborativamente ecco queste sono alcune tra le competenze digitali di base che sono in gioco nella costruzione digitale nella costruzione scusate di una narrazione digitale e quindi rientra questo discorso anche in quello della media education per esempio per costruire la nostra narrazione digitale multimediale ipertestuale dovremmo essere capaci di un minimo di editing dell'audio del video elaborazione dei testi o degli ipertesti dovremmo saper integrare poi tutti questi codici differenti in un unico sistema coordinato creando appunto e sapendo anche valutare questi media inoltre si pensi a come in tutte queste operazioni sono coinvolte pratiche quali la sicurezza la netiquette la privacy e anche la costruzione della nostra identità digitale in base a quello che pubblichiamo a come lo pubblichiamo eccetera quindi la narrazione si presta facilmente a mettere in gioco tutte queste abilità conoscenze e competenze come si presta facilmente la narrazione ad essere arresa in termini multimediali pensiamo ai bambini che disegnano le storie i personaggi delle loro storie i loro eroi e quindi la narrazione ha un'immediata traduzione in immagini in suoni in testi e così via chiama in causa come dicevamo prima le competenze digitali di base ma la cosa più interessante è che è molto versatile se concepiamo la didattica come in situazione capiamo subito che lo scopo dell'insegnante non è quello di applicare formule generaliste insegnare questo apprendere questo formule che pretendono di valere in modo accontestuale di essere universali chiaramente si tratta di un approccio completamente sbagliato l'insegnamento e l'apprendimento non sono riducibili a meccanismi di produzione standardizzata sul modello fordista non sono scienze esatte o della natura l'apprendimento e l'insegnamento si collocano sempre in contesto cioè sono sempre situazioni specifiche compito dell'insegnante appunto esercitare un continuo processo di regolazione adattamento delle conoscenze delle procedure dei suoi riferimenti pedagogici e didattici alla situazione concreta cioè tarare i suoi strumenti la sua cassetta degli attrezzi a questa situazione bene chiedo scusa per questo lungo discorso ma era importante la narrazione si presta ad essere facilmente adattata come vedremo in seguito a qualsiasi tipo di esigenza e naturalmente ultimo e non ultimo ha un valore di coinvolgimento e produce una motivazione molto forte e questo non può che essere benefico nel processo nel percorso formativo per avere un quadro più chiaro sulle competenze digitali e i processi di apprendimento di insegnamento e apprendimento consiglio a tutti di leggere le digicom le competenze digitali la release la versione 2.1 delle competenze digitali europee che sono state proposte proprio recentemente quest'ultima versione dal centro di ricerca europeo e che risalgono nella loro prima versione addirittura al 2013 che cosa sono? sono una tassonomia con tutti i limiti di astrattezza e rigidità di una tassonomia però possono costituire un termine di riferimento un quadro di orientamento utile utile per disegnare i percorsi didattici offrono quelle che sono le competenze digitali che devono essere proprie di ogni cittadino europeo per esercitare appieno la sua cittadinanza vengono individuate 21 competenze organizzate in 5 aree differenti per ogni area vengono individuati 8 livelli differenti di padronanza da un minimo a un massimo e questi livelli di padronanza nel loro insieme sono descritti con dei descrittori che cercano di essere per quanto possibile operativi e concreti 168 addirittura per chi volesse farsi un'idea di cosa sono queste DigCom 2.1 consiglio all'articolo di Sandra Troia osservare e valutare le competenze digitali dei cittadini chiediti questi punti veniamo adesso a capire qual è lo specifico della comunicazione e narrativa e per farlo ci aiuteremo con lo schema del viaggio dell'eroe che è stato elaborato e proposto da Christopher Vogler in una sua opera intitolata appunto il viaggio dell'eroe e che costituisce un po' il manuale la Bibbia di tutti gli sceneggiatori e i narratori pur con tutti i limiti di questo modello Vogler trae questo modello dagli studi di Campbell Campbell era uno studioso di mitologia di religione di filosofia che in un suo lavoro di mitologia comparata all'eroe dei mille volti confronta storie appartenenti alle mitologie di differenti popoli in differenti epoche e individua uno schema ricorrente quello appunto del viaggio dell'eroe cioè in tutte le narrazioni altro non sarebbero che l'espressione molteplice e multiforme di questo viaggio dell'eroe si tratta di una sequenza che rappresenta che rappresenta un percorso che si articola secondo Campbell in 17 fasi Vogler le riduce a 12 e che sarebbe l'espressione di quelli che sono ancestrali riti di iniziazione di passaggio in cui l'individuo passa dallo stato infantile a divenire membro a pieno titolo della comunità attraverso delle prove e quindi dietro il viaggio dell'eroe ci sarebbe ci sarebbe questo quello che fa Vogler quindi è partire da Campbell e proporre in termini semplificati più immediatamente divulgativi operativi per gli sceneggiatori questo schema vediamo un po' come funziona questo schema bene si parte da una situazione iniziale che rappresenta l'eroe nel mondo ordinario nel mondo noto prima dell'inizio dell'avventura succede qualcosa che è la cosiddetta chiamata l'avventura in genere un messaggero che porta una notizia o comunque qualcosa che produce uno squilibrio nel mondo noto una minaccia per esempio pensiamo a Luke Skywalker in Star War che vive facendo il contadino che ha un desiderio di avventura poi succede qualcosa Darth Vader rapisce la principessa Leila e poi c'è un messaggero che può scrivere anche un mentore mi pare Obi-Wan che va a chiamarlo e questa è la chiamata l'eroe è attirato ma è anche riottoso c'è un rifiuto della chiamata c'è un aiuto sopranaturale il Obi-Wan si presta anche come mentore che lo addestra e gli insegna e finalmente l'eroe parte all'avventura parte all'avventura superando la prima soglia che divide il mondo ordinario dal mondo straordinario dal mondo ignoto in cui l'eroe affronterà la sua avventura metterà la prova a se stesso affronterà la sua maggiore paura e conquisterà la propria piena consapevolezza bene superata la soglia che può essere una prova in cui gli deve affrontare un cosiddetto guardiano della soglia pensiamo a Cerbero o a Caronte per gli eroi che compivano come Orfeo o come Odisseo o come Nea il viaggio agli inferi superato questo in cui l'eroe viene messo alla prova abbiamo una serie di peripezie in cui l'eroe trova i suoi alleati viene nuovamente messo alla prova affronta Tranelli conosce i suoi nemici abbiamo il mentore che prosegue il suo addestramento gli fornisce un dono magico eccetera eccetera fino all'avvicinamento alla caverna che rappresenta l'abisso la morte e la rinascita morte e rinascita che possono essere reali molti eroi muoiono e risorgono o metaforici nel senso che l'eroe esce completamente trasformato da questa esperienza dallo scontro con il suo nemico e quindi dalla mettere alla prova se stesso mettere a rischio la propria vita questa trasformazione e il superamento di questa prova che produce questa trasformazione e che porta all'espiazione purificazione al ritorno nel mondo ordinario che non è però un ripristino della situazione di partenza perché qualcosa è cambiato perché l'eroe non è più lo stesso di prima o il suo mondo non è più lo stesso di prima o entrambe le cose ecco chiedo scusa mi sono dilungato su questo ci sarebbe da dire molto di più ma quello che qui occorre sottolineare che dall'Odissea alla Divina Commedia da Capucetto Rosso a Star War più o meno lo schema è sempre questo e le fasi sono più o meno queste ho parlato di Star War perché Lucas quando scrisse la prima sceneggiatura di Star War la cambiò completamente dopo che l'esse proprio l'eroe dai mille volti di Campbell e la riscrisse rispettando quasi tutte queste queste fasi questi personaggi gli archetipi che stanno dietro a questi personaggi poi si conobbero i due nell'84 qualche anno prima che Campbell morisse e furono anche amici bene vediamo adesso come Vogler nel viaggio dell'eroe dicevo ispirandosi a Campbell ma anche a Propp alla teoria alla psicologia del profondo di Jung abbia appunto proposto il viaggio dell'eroe come un po' il modello della narrazione universale penso che lo ritroviamo in tutte le culture in tutte le epoche qui ho riassunto quanto ho detto prima ma volevo qui soffermarmi su questo signore Propp Vladimir Propp nel 1928 scrive Morfologia della fiaba è uno strutturalista e un funzionalista avrei potuto cominciare da lui e normalmente le funzioni della fiaba individuate da Propp che sono 31 funzioni addirittura vengono proprio studiate come strumento per la pensiero creativo e per la narrazione nella scuola primaria nella secondaria di primo grado ho preferito usare lo schema di Campbell ma volevo qui un attimino soffermarmi su un confronto Campbell è uno studioso di mitologia Propp un antropologo un linguista Propp ha un approccio di tipo strutturalista mentre Campbell abbiamo visto un approccio di tipo storico diacronico però ecco le 31 funzioni cui arriva Propp non sono molto dissimili da quelle da quelle di Campbell Propp ricordiamo studia centinaia di racconti del folklore della tradizione popolare russa per cercare gli elementi invarianti di tutte queste storie le fiabe in questo caso e per definire quello che poi verrà chiamato schema di Propp o sequenza di Propp dicevo che vediamo qui raffigurate in quello che è lo schema della narrazione dei tre atti della narrazione in cui secondo Propp sia una rottura dell'equilibrio che da luogo avvia le peripezie dell'eroe la narrazione di queste peripezie e poi abbiamo uno scioglimento una soluzione la rottura dell'equilibrio può essere relativa all'insorgere di un problema a un'opportunità che viene offerta al personaggio una sfida che gli viene proposta un obiettivo che deve conseguire un oggetto per esempio un tesoro il Graal l'eroe nel corso delle sue peripezie grazie a degli alleati grazie a degli aiutanti riesce a superare il suo avversario è il suo nemico è a rispondere alla domanda a conseguire la vittoria a ottenere l'oggetto che gli cercava e a questo punto abbiamo lo scioglimento il ritorno dell'eroe la vita riprende anche se non è niente più come prima perché come abbiamo visto abbiamo una trasformazione e anche secondo prop in ultima istanza tutto questo questo schema rimanda ai riti tribali di iniziazione e di passaggio in prop abbiamo quindi delle funzioni che sono l'antagonista il mandante l'aiutante il premio la principessa l'eroe il falso eroe e così via funzioni che non sono da confondere con dei personaggi così come anche nel viaggio dell'eroe di Campbell e di Vogler le varie fasi e le varie funzioni anche in quel caso non sono da confondere con i personaggi nel senso che lo stesso personaggio può per esempio svolgere più funzioni che so Anakin Skywalker il papà di Luke all'inizio è l'eroe e poi diventa l'ombra diventa l'antagonista oppure quello che è il mentore spesso poi può rivelarsi un antagonista e viceversa e la stessa cosa capita in propria stiamo parlando di funzioni quindi una funzione può prendere corpo in più personaggi lo stesso personaggio può svolgere più funzioni inoltre in propria ma questo vale in parte anche nello schema di Campbell Vogler la funzione non si può identificare esclusivamente con un personaggio ma è un ruolo uno schema d'azione una situazione per esempio l'allontanamento la punizione e così via bene quindi vediamo qualcosa di molto complesso io per cercare di aiutare chi volesse approfondire questi aspetti ho linkato due articoli uno su Campbell di approfondimento e uno su Vogler che poi altro non è che la voce di Wikipedia che è fatta abbastanza bene in questo caso si tratta ovviamente di argomenti molto complessi per questo ho linkato qui altri articoli ecco chi volesse per esempio approfondire le problematiche dell'eroe dei mille volti troverà qui un articolo il viaggio dell'eroe una struttura narrativa epica in cui si analizza seppur sinteticamente l'approccio di Campbell e la rielaborazione che di questo approccio fa a Vogler questo è un sito molto particolare della città della luce si tratta di un gruppo che è di teosofia filosofie orientali eccetera quindi molto particolare però ho notato che il tema del viaggio dell'eroe e degli archetipi che secondo la psicologia junghiana del profondo si celerebbero dietro le funzioni e le fasi del viaggio dell'eroe è fatta molto bene questa è una scheda sintetica molto completa che può essere una guida per l'approfondimento presente su pubblicata su pensiero critico da Gilgamesh a Star War una scheda sintetica dicevo che proprio si occupa del viaggio dell'eroe dei temi trattati da Campbell mentre questa è un'animazione molto ben fatta che dura solo 4 minuti di Matthew Winkler che illustra le dodici fasi del viaggio dell'eroe che Vogler riprende da Campbell e quindi può essere anche vista con i sottotitoli in italiano per quanto riguarda Vogler invece questi due link sono molto rimandano a a un articolo molto ben fatto di Pierpaolo Buzza che studia chiedo scusa che insegna scrittura scrittura creativa narrativa eccetera e che nel primo articolo analizza quelli che sono i personaggi della storia secondo Vogler e nel secondo articolo invece prende in esame le varie fasi del viaggio secondo lo schema che abbiamo visto prima della storia in tre atti l'esordio inizio le peripezie con il climax e lo scioglimento la fine cioè il ritorno alla situazione di equilibrio vediamo adesso sempre mantenendoci su un certo livello di generalità quelle che sono le applicazioni digitali per lo storytelling mi riferisco qui più che a dei software che si devono installare a delle applicazioni web presenti sul cloud a cui basta registrarci senza dover installare nulla ebbene qui ho elencato disordinatamente alcune di queste applicazioni a seconda del media che è prevalentemente coinvolto per esempio i podcast noi possiamo registrare o possiamo addirittura gestire delle radio via web pensate a tutto ciò che si può fare con una web radio tutto questo in termini piuttosto semplici oppure abbiamo applicazioni che ci permettono di costruire animazioni disegni animati naturalmente applicazioni che ci permettono di costruire dei video delle animazioni video oppure le story map cioè mappe attraverso le quali possiamo raccontare una storia pensiamo a google maps e come possiamo delineare un percorso le infografiche anche permettono di rappresentare graficamente degli elementi narrativi poi c'è la scrittura multimediale i fumetti gli ebook eccetera 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 bene tutte queste applicazioni non posso certo illustrarle puntualmente né per tipologia ma in generale presentano una grammatica cioè delle procedure operative e delle funzionalità che sono comuni che sono quasi sempre le stesse prima di tutto sono in genere freemium cioè presentano una versione base free e poi a pagamento la versione pro ma molte sono open source quindi risorse aperte liberamente utilizzabili consentono poi di creare un contenuto che è il risultato dell'integrazione di più elementi mediali quindi come al solito immagini suoni link testi animazioni video e così via e poi permettono la pubblicazione anche le operazioni di pubblicazione sono più o meno simili abbiamo il tagging cioè l'inserimento di parole chiave con cui etichetiamo i nostri contenuti per renderli riconoscibili e rintracciabili da noi e dagli altri simili opzioni di condivisione via email via link tramite un codice che possiamo inserire nel nostro sito web eccetera eccetera e prevedono spesso meccanismi di interazione cioè commenti possibilità di commentare quindi di discutere eccetera eccetera non potendo illustrare ed elencare singolarmente sono centinaia queste applicazioni rimando a due interessanti repertori uno di Anarita Vizzari strumenti per narrare che ordinatamente individua varie tipologie di strumenti per la narrazione far parlare una foto costruire fumetti storyboard costruire quindi lo storyboard il visual storytelling tramite quindi immagini l'audio storytelling eccetera eccetera quindi potete entrare dentro una di queste cassette degli attrezzi e vedere esempi programmi software disponibile ho anche linkato un archivio realizzato da Robin Good uno dei più grandi curatori di contenuti a livello internazionale in cui trovate circa 600 applicazioni quasi tutte applicazioni web sia a pagamento che free che freemium ordinate in 70 categorie per esempio non so immagini social hub temi e modelli anche vedete strumenti per lo storytelling strumenti per costruire siti eccetera eccetera strumenti per costruire blog infografiche quindi ordinati per categorie in cui potreste certo qui non riguarda solo lo storytelling ma sono applicazioni in generale per il web publishing ma molte di queste anche se non sono espressamente pensate per lo storytelling possono essere utilizzate anche per lo storytelling quindi si tratta di strumenti esplorativi per così dire per evitare di perdere tempo e trovare più o meno subito o in meno tempo ciò che ci interessa ma cosa possiamo fare più precisamente nella nostra didattica nel condurre il processo formativo insieme ai nostri studenti cosa possiamo fare con lo storytelling io qui ho fatto un lungo elenco pensate per esempio alla documentazione di un evento in forma narrativa posso raccontare un'uscita didattica un viaggio di istruzione posso dare l'incarico a uno studente di costruire una narrazione usando un certo strumento il materiale che ha raccolto per esempio le foto che ha scattato durante un esperimento oppure può essere stato un convegno un evento sportivo un altro evento particolare che riguarda la vita dell'istituto oppure posso raccontare ciò che avviene nella classe per esempio un dibattito per esempio un progetto didattico per esempio un lavoro di gruppo nelle sue varie fasi di realizzazione posso chiedere uno degli studenti coinvolti uno per ciascun gruppo di raccontare il percorso complessivo del gruppo e quindi avremo un vero e proprio diario di apprendimento in cui documentare il percorso formativo pensate solo a questi naturalmente esiste poi la scrittura creativa esistono video lezioni con un taglio narrativo esiste che so il reportage in forma narrativa posso comunicare con le famiglie insomma posso fare tante cose importante qui sottolineo che dobbiamo essere sì noi ma soprattutto dobbiamo insegnare agli studenti a usare questi strumenti e a sviluppare quindi narrazioni nei vari formati digitali sono loro che devono imparare soprattutto nelle ultime slide trovate una bibliografia ho inserito quelli che sono dei testi che a mio modo di vedere sono piuttosto interessanti non ho adesso il tempo di soffermarmi su ciascuno di essi è una anche sitografia quasi tutta quasi tutta in italiano anche questa per approfondire ciò che trovate in rete quindi concludo concludo augurandovi di vivere come si dice nelle fiabe felici e contenti ma è questo importante con gli occhi bene aperti perché la narrazione è un potente strumento che ha i suoi problemi e soprattutto è la più potente forma di manipolazione nel bene e nel male ma è creata dal genere umano forse quindi insomma bisogna saperla utilizzare e bisogna essere in grado soprattutto lo devono essere i nostri studenti di comprendere i meccanismi con cui si costruisce la narrazione proprio per tenere i loro occhi sempre bene aperti vi saluto vi chiedo scusa per la lunghezza di questo intervento vi auguro una buona giornata